Ma ciao a tutti! Oggi parleremo di una star che ha avuto alti e bassi durante la sua vita e che ad un certo punto a molti sembrava stesse per crollare in un baratro molto profondo. Ma in realtà era solo un modo per lui di identificarsi e non stare più nell'ombra del padre, una famosa star anche lui. Di chi stiamo parlando? Di Jaden Smith. Tantissimi pensavano, come detto prima, che si fosse rovinato del tutto per via dell'aspetto strano che ha in questi ultimi due o tre anni. Sembra sia il suo modo di essere diverso e unico? Oppure no? C'è forse qualcosa di più che in tanti ignorano? Se siete suoi fan o anche se non lo siete ma siete sempre stati curiosi di sapere come Jaden Smith sia arrivato tal punto, allora ricordatevi di seduraiarvi e dopo essere passati anche dal canale di gaming cominciamo anche oggi una top piena di sorprese e fatti interessanti. Ovviamente per sapere qualcosa di qualcuno bisogna iniziare dall'introduzione. Magari molti di voi non sanno manco di cosa sto parlando o di chi sto parlando. Il suo nome completo è Jaden Christopher Sire Smith ed è uno dei figli del famoso principe di Bel Air, Will Smith e Giada Pinkett Smith che ricorderete sicuramente per il divertentissimo film Il Professore Matto. Quante risate mi son fatto. Che succede fratello? È nato nel 1998 e attualmente ha 21 anni, anche se non si direbbe. Tra i figli della famiglia possiamo trovare anche Willow Smith e Tray Smith. Lui è quello che si è fatto notare di più durante gli anni però. Non fa solo una cosa, è un attore, rapper, ballerino, cantante, modello statunitense e comandante dell'esercito di Sauron. Beh forse l'ultima me la sono inventata. È stato spinto verso le telecamere ad un'età davvero giovane. Nel mondo del cinema non è apparso per la prima volta nel film alla ricerca della felicità come tutti pensano. Anzi mi spiego meglio. In quel film ha recitato un ruolo importantissimo ma la sua prima apparizione anche se di pochi secondi l'ha fatta in Man in Black 2 all'età di 4 anni. E vi dirò di più. La sua prima apparizione in televisione è stata in una serie chiamata All of Us molto famosa negli Stati Uniti verso il 2003. E finalmente un regista di nome Gabriele Muccino ha deciso di inserire padre e figlio nel film alla ricerca della felicità dove a addirittura Jaden vinse il premio come miglior performance rivelazione. Ma i suoi premi per essere un vero prodigio della recitazione non finiscono qua. Nel 2008 grazie al film Ultimatum alla Terra insieme a Keanu Reeves ha vinto il premio miglior attore emergente. Insomma si prospettava una carriera con i fiocchi o no? La vera esplosione di successo c'è stata grazie a Karate Kid nel 2010 con Jackie Chan dove era al centro dell'attenzione di tutti ma proprio di tanti. Infatti nel 2012 ha creato il suo marchio di abbigliamento e anche stile di vita chiamato MSFT S-Rap in collaborazione con sua sorella Willow Smith e Matteo Arias. Insomma ripeto la sua carriera da attore sembrava stesse andando a gonfi e vele o no? E invece ora arriviamo alla parte buia. Che cavolo c'è sempre un momento nella vita dove il karma vuole prenderti a calci nelle chiappette. Nel 2013 esce un film attesissimo da tutti perché i protagonisti erano Will Smith e suo figlio di nuovo insieme creando un hype così grande da far saltare di gioia le persone soltanto grazie al trailer. After Earth. Io tra tutti ero ansioso di andare al cinema e vederlo. Poi mi sono ricordato che ero povero e non avevo manco 10 euro da spendere per un film. Il regista del film era il famosissimo Knight Shyamalan conosciuto anche per la trilogia sulla tipico film di supereroi e cattivi che concludeva con Glass. Sì quello dove c'erano i combattimenti in cui sembrava tutti si abbracciassero in modo estremo invece di lottare come nei fumetti. Ma a parte le mie opinioni senza senso, After Earth fu un fallimento totale. Will Smith l'ha definito il suo momento più brutto nel mondo cinematografico. Ha incassato solo 27 milioni nel primo fine settimana negli Stati Uniti, dopo che erano stati spesi ben 130 milioni per produrlo e 100 milioni per sponsorizzarlo nel mondo. Fortunatamente nel resto del pianeta è andato meglio, arrivando ad un totale di 243 milioni di incasso. Nonostante abbiano così recuperato i soldi persi, il film verrà ricordato grazie a sei importantissimi premi vinti dai protagonisti e pure dal regista. Peggior protagonista a Jaden Smith, peggior attore non protagonista a Will Smith, peggior coppia a Jaden Smith e Will Smith e per concludere peggior film, peggior regista e peggior sceneggiatura. Tutto ciò l'ha allontanato dal mondo del cinema e dico che ha fatto bene, non perché sia un brutto attore. A tutti capita di avere un momento no, ma perché una pressione del genere per un ragazzino di quell'età deve essere stata davvero enorme e stressante da sopportare. Fortunatamente non si è reso come celebrità e dopo un paio di anni e un po' di giorni bui è tornato con il suo marchio di acqua tipo Chiara Ferragni. Ma in questo caso ha fatto una cosa molto più ammirevole e onesta. Non ha venduto propriamente dell'acqua, ma si è focalizzato sui contenitori. Le bottiglie da lui create insieme all'aiuto di suo padre erano del tutto riciclabili ed erano state ideate per diminuire l'utilizzo di bottigliette di plastica e sensibilizzare le persone sul tema dell'inquinamento ambientale. Come avrete capito stava iniziando il cambiamento di Jaden Smith e da allora avrebbe cominciato a puntare di più sulla musica. A tal proposito ha iniziato la sua carriera nel 2010 con featuring insieme ad un bambino prodigio di nome Justin Bieber, con la canzone Never Say Never. Nel 2012 aveva fatto uscire The Cool Café, il primo mixtape, che ha avuto un seguito nel 2014 chiamato Cool Tape Vol. 2. Nello stesso anno si è concentrato sulla creazione del primo vero album per sfondare nel mondo della musica, che ha richiesto ben tre anni di produzione e impegno, arrivando così a una pubblicazione nel 2017. Il titolo era Sire, ma non si è fermato, anzi, nel 2019, dopo circa un anno di successo in tutto il mondo, ha pubblicato anche Eris. Sì, Sire scritto al contrario. Come detto prima, il cambiamento di questo ragazzo era cominciato, e oltre a diventare un vero attivista che cerca tutti i giorni di migliorare il pianeta, ha anche cominciato a vestirsi in modo molto molto differente. Smith ha detto che Tyler, The Creator, Batman e Poseidone sono le sue icone quando si tratta di moda. E in questo campo ha sollevato polemiche nel 2016, dopo aver fatto da modello per una campagna di abbigliamento femminile per Louis Vuitton con una gonna. Ha detto che non era una cosa fatta in cattiva fede, ma per combattere contro il bullismo. È voler dimostrare di non essere legato a un genere preciso. Non voleva indossare un tipo di abbigliamento solo perché la società gli diceva che i maschi si vestono in un certo modo e le femmine in un altro. Parlando di relazioni amorose, Jaden ha lasciato casa dei suoi per un periodo per mandare avanti una specie di relazione appunto con la sorella di Kim Kardashian, cioè Kylie Jenner. Ma non soltanto lei, è stato fidanzato con Sarah Snyder dal 2015 al 2017 e nel 2018 con Odessa Edlon. C'è stato però un periodo in cui si era davvero rovinato, ma com'è successo? Addirittura la madre aveva detto che ha avuto dei seri problemi alimentari a causa del veganesimo applicato senza troppa consapevolezza. Le situazioni che lo hanno portato a ciò spesso riguardano il fatto che si è diventato un personaggio importante sin dalla tenera età. Non ha avuto un'infanzia come le altre. Le attenzioni da parte di tutte le persone nel mondo erano davvero tante. E i genitori avevano un metodo di insegnamento alquanto particolare. Will Smith e Jada Pinkett pensavano che non bisognasse forzare i figli a fare niente. Facevano scegliere loro i vestiti o quando fare i compiti, oppure non venivano puniti severamente se commettevano errori. Semplicemente spiegavano ai bambini cosa era sbagliato. Senza troppe restrizioni e correzioni, Jaden era un po' su un filo sottile che tendeva nel vuoto, perciò in un periodo molto oscuro era diventato narcisista e abbastanza presuntuoso, dichiarando spesso di essere il futuro del cinema o il cantante del secolo che tutti attendevano. Oppure ancora che era lui a dettare le regole del mondo della moda e qualcuno gli dava anche ragione. Uno dei motivi principali per cui si comportava in questo modo era per uscire dall'ombra del padre. Voleva essere l'opposto di Will Smith, non importava in che modo. Questo si poteva capire dal suo modo di vestire e dai colori che adottava nel suo stile, capelli rosa, maglie fluo luminose che accecavano alla vista e pantaloni che si reggevano a malapena a volte. Sembrava non capire bene però in que situazione si trovasse, creando scandali su scandali. Nel 2018 a novembre durante un concerto ha alimentato altri rumor su una possibile relazione tra lui e Tyler the Creator. Aveva annunciato sul palco di amarlo. Tyler da sotto il palco aveva continuato a negare tutto, mentre Jaiden ha insistito. In teoria stava scherzando, ma ricordiamoci che durante una campagna di moda aveva detto di non avere genere ed essere aperto a ogni tipo di amore. In un'intervista aveva ammesso di aver fatto solo un piccolo scherzo chiudendo questa storia una volta per tutte. Alcuni però ancora oggi hanno dubbi su questa situazione. Secondo alcuni la libertà concessa ai figli di Will Smith è stata fin troppo. Per questo motivo suo figlio ha attraversato un periodo stranissimo e abbastanza inquietante per alcuni. Ancora oggi è un complottista convinto, parla spesso degli illuminati, del governo e di come nascondano gli alieni per non scandalizzarci o altro. È stato al centro di migliaia di controversie più di una volta, specialmente per un'affermazione che ha lasciato molti senza parole. Per lui la scuola è completamente inutile e ha consigliato ai ragazzini di mollarla e dedicarsi alle loro passioni. Smith ha anche detto che i ragazzi che vanno a scuola sono così angosciosi. Testuali parole. Che dite voi? Fatemelo sapere nei commenti. Ma non per questo è una cattiva persona. Il padre gli ha consigliato di essere al 100% ciò che voleva diventare. E oggi è proprio il ragazzo che possiamo vedere nel suo nuovo video musicale, dove indossa un cappellino che non ha la minima voglia di cadere dalla sua testa. Esatto, non ero concentrato a cercare di ascoltare la canzone. Ma solo su quel maledettissimo cappellino. Qualcuno mi spieghi che colla ha usato. Per finire cosa possiamo dire di Jaden Smith? Si è rovinato ora che ha quegli strani denti e pesa meno di uno stuzzicadenti? Non proprio. Questo è il suo nuovo stile di vita, quello di un ragazzo che ha scelto di essere diverso e di non aver più paura delle critiche degli altri. Cerca sempre di non buttare mai una sola cartaccia per terra e di fare tutto il possibile per salvare il pianeta. E far capire anche agli altri questo punto di vista. E meno al centro di scandali ultimamente perché è concentrato a promuovere la sua musica il più possibile. Voi che ne pensate? Con questo concludiamo. Vi ricordo come sempre di fare un giretto anche sul canale Telegram Disconti e di iscrivervi se siete nuovi. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.